Poliurea a spruzzo. Perché spesso è la soluzione migliore per le impermeabilizzazioni? Ecco cosa vedremo in questo video. Prima di tutto che cos'è la poliurea, come viene applicata, dove può essere utilizzata, dopodiché perché molto spesso è la soluzione migliore per impermeabilizzare un supporto ed infine perché viene considerata la panacea a tutti i problemi di infiltrazione e perché in realtà non è proprio così. Iniziamo con il capire che cos'è la poliurea. Qui trovate una definizione un po' più tecnica per chi appunto è più interessato a questo aspetto. Allora, la poliurea è un elastomero ottenuto chimicamente dalla reazione di poliaddizione di un isocianato alinfatico con una mina polifunzionale in un rapporto di miscelazione in volume generalmente di uno ad uno. Qui invece abbiamo proprio un'immagine un po' più pratica per farti capire effettivamente qual è la differenza che magari potresti vedere, che quando vai in cantiere potresti vedere questi diversi barili così almeno ti è un attimo un po' più chiaro. Sulla destra abbiamo i barili rossi appunto sono quelli che contengono l'isocianato mentre quelli sulla sinistra blu sono appunto i barili del poliolo. Come viene applicata? Allora la poliurea viene applicata a spruzzo attraverso l'impiego di impianti B-mixer a una temperatura di circa 70 gradi con una reattività di pochissimi secondi che questo permette appunto di garantire lo spessore anche in verticale. Questa è un'immagine invece per farvi proprio vedere praticamente come è fatta una macchina semplicemente è molto piccola come vedete si sta in un furgone anche molto comodamente e niente questa macchina pesca con i suoi pompanti il materiale dai due barili e dopo semplicemente li trasporta, li fa passare attraverso altri tubi che la portano ad essere spruzzata poi con la pistola. Come abbiamo visto un paio di slide indietro che appunto è una caratteristica fondamentale della poliurea è che indurendo velocemente aderisce perfettamente anche in verticale proprio qui in alto sulla sinistra potete vedere un dettaglio appunto di un supporto e qui sulla destra proprio il nostro operatore applicatore che spruzza direttamente la poliurea sul verticale e questa rimane appunto indurisce praticamente istantaneamente 15-20 secondi così non cola. Vediamo ora dove viene utilizzata. In un primo tempo era poco conosciuta e per il sollevato costo veniva utilizzata principalmente per impalcati stradali e commesse statali. Negli anni a seguire vista la grande versatilità della poliurea e richiesta provenienti dai più svariati settori nel campo dei rivestimenti sono nati diversi campi di utilizzo in base alle varie destinazioni d'uso. Come per esempio il settore alimentare è potabile grazie appunto alla sua certificazione HCCP. Come vedete dalle foto qui sotto appunto sulla sinistra questo è proprio una vasca, un contenitore di acqua potabile fatto interamente in poliurea, ricoperto in poliurea e mettere qui sulla destra il pavimento di un supermercato all'ingrosso, quella colorata è proprio la poliurea. Viene utilizzata anche per il contenimento di liquidi, anche acidi, come potete vedere dalle immagini qui sotto proprio queste sono vasche di contenimento di idrocarburi per cui liquidi anche piuttosto particolari, interamente ricoperte di poliurea fatta direttamente sul massetto cementizio, ecco non c'è bisogno di trattamenti ulteriori. Dopodiché viene applicata tranquillamente anche su diversi supporti, tipologie di supporti carrabili, parcheggi, è come nella foto che potete vedere qui sotto quindi un parcheggio interno oppure sulla destra proprio su una passerella di un porto in cui ci passano muletti, gru eccetera eccetera proprio perché la carrabilità è proprio una delle sue caratteristiche principali e poi soprattutto coperture industriali che qui è proprio dove la poliurea è più conosciuta. Chiaramente viene utilizzata anche spesso in coperture civili, qui sulla sinistra proprio vedete il tetto di una casa privata, anche qui la poliurea è stata applicata direttamente sul massetto cementizio, qui sulla destra stessa cosa soltanto che è un hotel. Anche su terrazzi viene utilizzata assolutamente, come vedete qui sulla sinistra anche un colore un po' particolare, terrazzo di un edificio privato, mentre qui sulla destra sempre un terrazzo dello stesso hotel che avete visto prima la copertura. Ora, perché viene spesso preferita rispetto ai tradizionali sistemi di impermeabilizzazione come guaine, PVC, resina eccetera eccetera? Il motivo numero uno è proprio che non presenta saldature e giunture, dato che appunto viene applicata in forma monolitica senza saldature e giunture appunto, andando ad inglobare tutti i corpi emergenti dalla copertura, staffe, basamenti, impianti, camini eccetera eccetera. Proprio qui come vedete nella foto non ci sono saldature, il manto è tutto unico, la superficie è tutta unica, poi perché ha una completa adesione al supporto, dato appunto dalla modalità spruzzo, che permette di creare un manto unico, come ho detto prima, avvolgendo completamente tutta la superficie. Con la giusta preparazione diventa veramente difficile staccarla. Qui come vedete proprio la foto a destra, c'è il nostro applicatore che sta spruzzando la poliurea su un pavimento che ha delle fughe veramente spesse, ecco dopo aver applicato la poliurea semplicemente ci sarà un manto unico senza più i problemi di fughe che potrebbero perdere. Numero 3, resistenze meccaniche e chimiche prestazionali veramente altissime, infatti ha un allungamento alla rottura oltre il 500%, quindi supporta anche i movimenti strutturali più importanti, resiste alle temperature più estreme che vanno da meno 40 gradi ai più 180 gradi, è resistente alla grandine, ai raggi ultravioletti e non ha bisogno di protezioni particolari. Ha ottime caratteristiche di pedonalità e carrabilità anche pesante, resiste agli acidi più aggressivi come i liquidi delle batterie, la benzina, il gasolio, il sale eccetera eccetera, tutte cose che come abbiamo visto anche in qualche immagine delle slide precedente, che c'era appunto la banchina del porto dove passano muletti, tru, la vasca in cui appunto conteneva idrocarburi, per cui assolutamente queste sono dimostrazioni diciamo di queste caratteristiche. Motivo numero 4, velocità di esecuzione. Si può già calpestare dopo 15-20 secondi e si può applicare velocemente anche fino a 1000 metri quadrati al giorno, a seconda chiaramente della complessità della struttura. In quanto è un intervento piuttosto rapido e poco invasivo, si abbattono anche i rischi di lasciare scoperta la copertura durante le fasi di posa, cosa assolutamente importante soprattutto per i cantieri nuovi con costruzioni nuove in cui si cerca di mettere a posto la copertura il prima possibile per poi non dover rischiare di bagnare e danneggiare tutto il sottostante. Numero 5, riesce ad arrivare dove i sistemi tradizionali non arrivano. Infatti grazie alla modalità spruzzo che permette di arrivare in punti dove manualmente sarebbe impossibile arrivare anche quelli più nascosti, evitando spesso la rimozione di impianti tecnologici presenti in copertura. Qui a fianco possiamo proprio vedere un'immagine esempio in cui come potete vedere la polioresta applicata a spruzzo, chiaramente un manto unico però il beneficio è che non tutti questi attrezzature, impianti che vedete sopra non sono assolutamente stati toccati e appunto c'è stato bisogno di doverli rimuovere per poi riposizionarli. Inoltre non necessita di particolari mezzi di elevazione in quota per la fase applicativa in cantiere tipo autogru, ascensori, proprio che portino i materiali in quota. Infatti la poliorea e l'attrezzatura per spruzzarla rimane tutta a terra. Come infatti potete notare dall'immagine qui a fianco, qui è proprio un'immagine di una nostra postazione che i nostri applicatori diciamo ricreano in ogni cantiere, quindi come vedete tutti i barili quindi con la poliorea a terra, il furgone con dentro la macchina tutto a terra, semplicemente i tubi vengono tirati sulla copertura o dove è il supporto e viene svolto il lavoro. Quindi la poliorea è decisamente il miglior materiale che al momento c'è sul mercato per impermeabilizzare praticamente qualsiasi tipo di supporto. Spesso infatti viene considerata la panacea di tutti i problemi nel campo delle impermeabilizzazioni. Ma in realtà devi sapere che non è proprio così. Perché la cosa che di più fa la differenza è come viene applicata. Perché per fare della poliorea un ciclo durevole nel tempo, prima di intervenire bisogna prima di tutto effettuare un'attenta analisi del supporto e della superficie da trattare, cosa che in realtà molte persone danno per scontato. Dopodiché deve essere stilato un piano di intervento specifico per la singola situazione. Anche qui molti applicatori non fanno attenzione a questa cosa, si mettono a fare un po' di preventi copia e incolla per ogni tipo di supporto, cosa che non è proprio la situazione ideale. In più, prima di applicare direttamente la poliorea a spruzzo, c'è bisogno di preparare la superficie nel migliore dei modi. In modo che appunto la poliorea possa aderire completamente al supporto. Questo in assoluto è una cosa che pochissimi applicatori fanno in Italia perché pensano di fare le cose velocemente dando poco cura alla preparazione che poi è quella parte fondamentale di tutto il lavoro. Ecco perché per fare in modo che non risulti una perdita di tempo e soldi sprecati, dovendo tornare dopo qualche anno a riparare il supporto, bisogna affidarsi a un'azienda specializzata nel settore. Proprio perché affidarsi ad aziende leader del settore come noi di poliorea Italia ti garantisce alti standard di affidabilità e sicurezza della riuscita del lavoro finale. Infatti, grazie all'esperienza pluriannale, le competenze tecniche dei nostri applicatori, siamo in grado di portare al cliente un risultato di qualità superiore alla media, permettendoti di abbattere i costi di manutenzione del tuo supporto. Per cui, se vuoi saperne di più o vuoi parlare con uno dei nostri tecnici esperti, qui sotto il video trovi tutte le informazioni per contattarci.